E' la porta del Cilento, andiamo ad Agropoli a scoprire le sue baglie turchesi con Rino Gionovese. E' noto come la Palm Beach della Campania, il lungomare San Marco. Agropoli, la città dove da decenni sventola la bandiera blu. Tre chilometri di costa visitabile, sito di interesse comunitario. Lo scoglio di Trentova, lì dove secondo la leggenda furono trovate 30 uova di tartaruga o di gabbiano. Una delle estremità della Baia di Trentova, qui inizia il parco nazionale del Cilento, degli Albunni e del Vallo di Diano. E guardate cosa si scopre dietro l'altra estremità, la meraviglia della Baia del Vallone, considerata tra le più belle d'Italia. In sé nature che si susseguono tra simpatiche creazioni della natura, come la Grotta dell'Elefante, il mare che è storia, ambiente, turismo, ad Agropoli, c'è uno dei porti turistici più grandi della Campania. E' un'economia che si è evoluta nei secoli, ma lasciando sempre segni di eccellenza, come la fornace di Agropoli. Intorno, oliveti che degradano verso il mare, la leggenda che diventa storia e panorami che si trasformano in poesia.